Prepara con me un frittata sandwich usando il pan campagnolo integrale di cereal. Una base di formaggio spalmabile, rucola, un quadrotto di frittata e carciofi, un filo d'olio, salmone affumicato, finocchietto e una spruzzata di limone. Un'idea davvero golosa da portare con te, perfetta per un picnic di Pasquetta in famiglia.